Benvenuti alla rubrica mensile, dal libro allo schermo, pubblicata ogni ultimo giorno del mese che presenta i film e le serie televisive del mese successivo, tratti dai libri. Scopriamo subito il programma del mese di marzo 2024. Dal romanzo Il cosmonauta dello scrittore Jaroslav Kalfari il film Fantascienza Spaceman. Dal romanzo Il problema dei tre corpi dello scrittore Cixin Liu, la serie di Fantascienza Il problema dei tre corpi. Ti ricordo che nella playlist dal libro al film adattamento cinematografico puoi trovare quali libri sono stati adattati come film e serie TV. Ora invece conosciamo i dettagli degli adattamenti in uscita ed infine le schede e le trame dei rispettivi libri. Il film Spaceman, in onda sul canale di streaming Netflix, il giorno 1 marzo, segue la storia di un astronauta, che dopo sei mesi di missione in solitaria, affronta la crisi del suo matrimonio con l'aiuto di una misteriosa creatura che si nasconde a bordo dell'astronave. La serie Il problema dei tre corpi, in onda sul canale di streaming Netflix, il giorno 21 marzo, segue attraverso continenti e decadi. Cinque amici geniali che fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. Esistenziale. Approfondiamo ora con le schede dei libri. La trama del libro Il cosmonauta. Praga, primavera 2018. Rimasto orfano in giovane età e cresciuto in campagna dai suoi strambi nonni, Jakub Prokasca è uno scienziato di scarsa importanza con un grande sogno. Diventare il primo astronauta del suo paese, la Repubblica Ceca, una nazione in cerca di identità dopo il crollo della cortina di ferro. Per questo, quando gli viene proposta una missione sul pianeta Venere, non ha dubbi, potrà diventare un eroe e riscattare il nome della sua famiglia, infangato dalle gravi colpe del padre, informatore e torturatore durante il regime comunista. Ma tutto ha un costo, e il prezzo da pagare in questo caso è abbandonare la moglie Lenka, sacrificando sull'altare dell'ambizione personale il matrimonio e il progetto di un figlio insieme. Sotto lo sguardo adorante del suo popolo, Jakub parte a bordo dello shuttle, d'ora in poi sarà solo nello spazio profondo, anzi no, godrà della compagnia, reale o immaginaria, di un bizzarro alieno. Ma l'impresa è pericolosa e Jakub rischia la vita, sarà l'intervento di una flotta russa in missione segreta a riportarlo sulla terra dalla sua Lenka? La trama del libro Il problema dei tre corpi, nella Cina della rivoluzione culturale, un progetto militare segreto invia segnali nello spazio cercando di contattare intelligenze aliene. E ci riesce. Il messaggio viene captato però dal pianeta sbagliato, Trisolaris, l'unico superstite di un sistema orbitante attorno a tre soli, dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, che hanno già arso undici mondi. È quello che i fisici chiamano problema dei tre corpi, e i Trisolariani sanno che anche il loro destino, prima o poi, sarà di sprofondare nella superficie rovente di uno dei soli. A meno di non trovare una nuova casa. Un pianeta abitabile, proprio come il nostro. Trisolaris pianifica quindi un'invasione della Terra. Sul pianeta azzurro, nel frattempo, l'umanità si divide. Come accogliere i visitatori dallo spazio? Combattere gli invasori o aiutarli a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto? Grazie per l'ascolto e ti aspetto per il prossimo appuntamento di Dal libro allo schermo, dove insieme scopriremo cosa ci riserva il mese di aprile e ci immergeremo nelle magie del cinema, della tv e della letteratura. Iscriviti al canale per unirti in questo viaggio magico tra le pagine e lo schermo e tutte le novità letterarie. Buona visione e buona lettura a tutti!